Ciao a tutti, rendi la tua vita un sogno ed il sogno una storia. Prima di affrontare questo tema, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco ed iscriviti al nuovo canale Felicità Benessere di cui ti posto i link in descrizione. Allora, dobbiamo renderci conto che nella nostra vita è importante, fondamentale, basilare, avere un sogno. Un sogno è quello che dà forza alla vita stessa. Noi non possiamo essere felici se non abbiamo un sogno da perseguire. Il sogno però non deve essere, come dire, concentrato su un oggetto di desiderio in particolare. Cioè, uno può avere il sogno di vivere l'amore, ma non il sogno di vivere l'amore con Mario Rossi. Quello diventa un limite, diventa una costrizione. E allora la parte emotiva trarerà emozione da non farti vivere l'amore con Mario Rossi. Quindi il sogno della nostra vita deve essere un sogno che ci spinge al miglioramento. Deve essere un sogno che ci spinge a raggiungere degli obiettivi importanti. E questi obiettivi li possiamo raggiungere se e solo se riusciamo a vivere bene quella che è la nostra vita e avere veramente un sogno da realizzare. Il sogno dobbiamo farlo diventare la nostra storia, ma la nostra storia non coincide con un punto. La nostra storia coincide con un percorso. Quindi noi dobbiamo andare alla ricerca di quello che è il nostro desiderio più profondo, interiore, il desiderio più forte è farlo crescere. Farlo muovere, diciamo, farlo muovere nella nostra vita. Farlo muovere e farlo diventare qualcosa di veramente importante. Farlo diventare qualcosa di oggettivamente utile per noi stessi, per essere felici, per poter superare quelli che sono i nostri limiti, le nostre barriere culturali, le nostre debolezze. Molto importante fare questo e per riuscire a farlo dobbiamo davvero metterci in gioco. Metterci in gioco. Mettersi in gioco cosa significa? Mettersi in gioco significa perseguire con costanza, avere degli obiettivi, dei sogni alti, delle aspettative basse e mettere uno sforzo costante. Dobbiamo renderci conto che nessun pranzo è gratis, nessuno ti regala niente e se non ci metti del tuo non raggiungerai assolutamente niente. Ma la storia che scrive questo sogno deve essere una storia di crescita personale che non significa essere perfetti. La perfezione è spesso un limite. Cercare di essere perfetti vuol dire combattere contro i mulini a vento e non raggiungere nessun risultato. Per seguire un sogno invece vuol dire migliorarsi, avere la forza di migliorarsi e creare una storia, una storia di vita che possa essere una storia bella, importante e felice perché tutti noi meritiamo di essere felici. Per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco iscriviti al canale e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti! Ciao a tutti!